Seconda sconfitta consecutiva, due sconfitte su due partite, questi play-off che il Potenziano Vole ha intrapreso sembrerebbe roba da rattristarsi, eppure io credo che questo girone class, come viene chiamato, può essere molto prezioso per una squadra del primo anno da parte sua di Serie C. Concordo, sicuramente ci serve a noi più che altro per acquisire esperienza. Il primo anno che facciamo la Serie C abbiamo delle ragazze giovani, stiamo facendo giocare anche delle under, quindi ci serve una prospettiva per il prossimo anno, quindi prendiamo quello che viene, abbiamo incontrato sicuramente due squadre più attrezzate di noi, purtroppo da inizio della stagione che siamo un po' bersagliati dalla sfortuna e dagli infortuni, acquisiamo esperienza, sarà tutto oro colato che ci portiamo per il prossimo anno. Sì, c'è sicuramente più di una di queste giovanissime che stanno crescendo, che può essere molto preziosa nella prossima stagione pallavoristica, adesso prima trasferta di questa seconda fase, di questo girone class a Genova contro una Serteko dalla grossa tradizione. Può essere anche la prima trasferta dei Portis Fortuna? Ma speriamo, la Serteko solitamente non ci ha portato mai bene quando l'abbiamo infordata in Serie D, però non si può mai dire, comunque ripeto, come ti dicevo prima, è un campionato dove stiamo acquisendo esperienza e io spero che si ripeta quello che si è ripetuto quando siamo andati in Serie D il primo anno, il primo anno è stato un anno di acquisizione di esperienza, poi il secondo e il terzo anno abbiamo fatto due ottimi campionati di vertici, quindi speriamo che questo ci serva come lo scorso campionato in Serie D e dal prossimo anno con una rosa magari rinforzata, con qualche giovane che stiamo crescendo, che sta venendo fuori bene, di poter affrontare un campionato e di vivere un campionato in maniera più tranquilla e migliore.